Secondo gli inquirenti sarebbero stati loro a rifornire Arezzo di cocaina, in alcuni mesi infatti sono stati sequestrati ben 18 kg di sostanza stupefacente. In manette adesso sono così finiti due presunti pusher entrambi pregiudicati. I controlli di peridamenti dei carabinieri della compagnia di Arezzo erano iniziati nella primavera 2021 e sono durati alcuni mesi, tanto da portare gli inquirenti ad ipotizzare due canali di rifornimento di cocaina nel capoluogo, uno in Umbria ed un altro nel Valdarno e Aretino. I militari, coordinati dalla procura, hanno chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Arezzo la misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 40 anni, residente in Valdarno e di un uomo di 27, albanese, che risiedeva in città. Entrambi pregiudicati sono stati arrestati in flagranza di reato di detenzione e fini di spaccio, poiché sono stati trovati nelle loro disponibilità circa 350 g di cocaina ed 8.000 euro in contanti, somma ritenuta dai carabinieri provento dell'attività illecita. Uno dei due, inoltre, durante le fasi dell'arresto, ha opposto resistenza cercando di ingoiare alcune dosi di droga. Entrambi adesso si trovano nel carcere fiorentino di Sollicciano. Nel corso delle indagini militari avevano già sequestrato complessivamente 18 kg di cocaina e 94.000 euro in contanti, oltre ad un'auto con un sistema di sottofondo per trasportare lo stupefacente, che al dettaglio avrebbe potuto fruttare 1.300.000 euro una volta immesso nelle piazze dello spaccio.